cari amici benvenuti nell'atteso video dove saprete il vincitore dell'account premium di minecraft ovvero contest numero 2 e vedremo chi vincerà il l'account che andremo a comprare sul sito della mojan apposta per uno di voi avete partecipato in tantissimi grazie a tutti il con il primo è solo uno vi preoccupate se non siete dal vincitore che vedremo tra un secondo facciamo subito dopo questo video vi troverete un nuovo contest per provare a vincere un altro account grazie ancora a tutti aver partecipato e ora vediamo chi può essere il vincitore chi sarà il vincitore poche chiacchiere che stanno soffrendo dai facciamo un veloce shuffle ok abbiamo messo casuale non ci interessa particolarmente vedere davanti a voi così potete vedere chiaramente che il vincitore sarà scelto da questo programmino a caso che abbiamo trovato suite partiamo ok ora sceglieremo un solo nome siamo pronti a vedere chi sarà il vincitore di questo contest e il vincitore del contest numero 2 è sarah jackson 96 ehi ma allora è una vincitrice non è un vincitore auguri sarah bravissima sarah jackson per essere uscita ad avere questa bella fortuna di vincere un account premium di manca mi raccomando mandaci un messaggio privato così che tu possa noi che così che noi possiamo poi mandati il gift code complimenti a tutti aver partecipato e non mi preoccupate perché un altro contest è lì sul binario che sta partendo verso di voi quindi mi raccomando ci raccomandiamo partecipate numerosi se non avete appunto vinto siete sarah jackson godetevi grazie a tutti stati con noi e alla prossima video che faremo e al prossimo contest in arrivo subito a subito e via quel dito da disiscrizione su alla prossima ciao 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 ciao